Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi drapponi per trovare qui sul canale di Granaz E possiamo vedere la situazione, vai Eccoci qui, praticamente Bella, tanto perché io non riesco mai a dire una cosa Perché lui è un percasso, comunque Mancano 6 punti E dobbiamo fare 6 punti in 2 partite Abbiamo 2 partite? Sì, quindi dobbiamo fare 2 vittorie Quindi retrocediamo, che bello Questa è la rosa, dobbiamo un po' migliorarla Attenzione, è la sua squadra in questa Va bene, è la nostra, è la nostra vecchia bundes O Sergio Ramos là Sì, non c'entra un cazzo, infatti, però Vabbè, però guarda che non è una cosa sbagliata Eh, oddio, non c'hai intesa con l'arte Quindi dovrebbe tipo passarla male, spazio l'arte Quindi io mi chiedo, io mi chiedo, io mi chiedo Questo è un po' lento, hai già messo a farlo, c'è Comincia male la storia Giochiamo bene e usiamo l'educazione Ok? Non dire parolacci Perché lui non gioca Ecco perché Ole Dai, dai, almeno questa Probabilisela Benins, benins Dai cazzo, lo devo seguire subito No Non me prego un cazzo Se devo salvare E vaffanculo E finita la cosa buona Mamma mia Il tacco addirittura Vai William Ma questo non sta... Giocano o non gioca? Vabbè me sta a farlo c'è Ah Boom E c'è Ah, io c'è Ah, io c'è Giocano o non c'è Usiamo quella con la collaborazione Di qui che quando giochiamo Quindi, finalmente, alti livelli di test S di sasso Ma questo che do ha fatto Con un buon disvantaggio Per cui ci ha giocato Fammi capito Perché se no io c'erano un novantesimo Oh, ma mi ha preso Oddio, io c'è C'è stata la musica Perché ti sento sbattoli tanto per fangolle oscar non è vero ero ma sopra Diego Costa perfetto pallonetto usa quello dal cazzo L1 e tira invece però per cazzo per terra come faccia a tirare per terra ma c'è abbia del pallonetto ma schifo parlo di tutti no 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 e che vuoi segnali c'era poco facile la no schifo come gli pare dai non lo sa questo riposo schifo bene cosa non è vero perché mi manca era Costa mentre William 1-2 con Costa Costa avanza Costa avanza William 2 che cavolo perchè ne sei blocchi che oggi su soffi fa i blocchi mamma mia non li sopporto dai ragazzi mettiamo la scossa 1-0 non sto per niente tranquillo guardate che cazzo le stop che ha fatto guarda che culo eh dai William marco ha già partito già stanno un po' da porto sul nascere però noi tendi con ti ha fatto tutti da qui uno che non stava giocando eh questo questo è un gioco tratti malissimo rois rois ancora mezzo per Lewandowski io li sempre lui qui ho vi semplicemente lui ho visto come bug qua magnificamente lui guida sull'altro guida guida di chi fallo fallo ahahah i voi no le fortuna io po' ancora rois marcolino 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 che cazzo eh marcolino finito al campo marcolino marcolino no va bene così tranquillo io lo so tranquillo le case santa marcolino ma che cazzo ho fatto questo è un livello script ecco ti resegnò è arrivato il momento in cui lui ti resegnò colpo di palla guarda eh momento segno per cazzo momento segno mamma mia bates carica al sinistro porca patola ma che insegnano più dalla l'hanno baciato non ti vede ho un culo era bello era bello era bello con tempi cosa perché lo da lui mamma mia che bella oh porca droga fa un po' pulite comunque cioè quando ci giocamo contro è un fenomeno no quando ci giocamo con fa ridere William corri dai poi è dal momento che inseppiamo il gol è finita lo dico cioè dai che te l'ho tolta no ho una presa a me no 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 sto veramente un po' più tranquillo bella bella c'è una pippa bella di pagher bella di cabella bella di cabella bella di cabella ahahah pazza pazza ragazzi la prima è andata anche se sembra strano ma l'abbiamo vedo pazza la prima è andata chi c'è qui manca solo una vittoria per compiere l'impresa e salvarci ma perché fa bregasse giocava e salvarci per un'altra volta shurle quanto è brutto dai è così noi ci beccamo domani domani ci sarà meccione proprio si partitone ciao bella ciao 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 ciao